E' Gidia Berretta che è stata la mamma di Vittorio Arrigoni, ancora la mamma di Vittorio Arrigoni per tutti noi. Intanto vorremmo chiederle qual era il senso della frase Restiamo Umani che Vittorio usava per firmare tutti i suoi articoli quando scriveva a Gaza. Ma Vittorio lo scriveva io credo anche se non ne abbiamo mai parlato direttamente, credo che lo dicesse soprattutto a se stesso questo per imporsi questo sforzo di conservare l'umanità con tutta la ricchezza che può assumere questa parola nonostante tutto quello che lui stava vivendo in quei momenti. Quindi credo una frase nata proprio a seguito della tragedia che lui stava attraversando nel periodo di Piombo Fuso. Quale può essere una modalità per continuare con l'insegnamento che Vittorio in qualche modo ci ha lasciato? Qual è l'eredità che Vittorio ci regala per il futuro? Perché bisogna parlare anche di futuro. Certo, penso che Vittorio vorrebbe che soprattutto a partire dai giovani ciascuno sapesse guardare la realtà con occhi profondi, con occhi consapevoli, che si rendesse conto delle sofferenze che ci sono intorno a ciascuno di noi in qualsiasi ambito noi viviamo. E da lì tradurre proprio in impegno un impegno generoso per riuscire a cambiare in qualche modo, non dico il mondo intero, ma cominciare dalla nostra piccola realtà. Grazie.